Alle elementari, nella scuola dell'infanzia, tenere la mascherina per tutte quelle ore io credo che sia non corretto perché le distanze ci sono i bambini, sono straordinariamente disciplinati, la mettono sempre la mascherina quando entrano, quando escono, quando c'è la ricreazione dove peraltro non possono nemmeno giocare più e sono rispettosi e le maestre sono bravissime a tenere. Ma, dico, è necessario mettere la mascherina ai bimbi in classe e se la legge continua ad andare in quella direzione, siccome siamo rispettosi della legge, io dico troviamo delle modalità, ogni 40 minuti ci si fermi, si toglie la mascherina e si respiri.